Fratelli d'Italia, Italia sedestra, e nel municipio si è cinta la testa, dove la vittoria e borga la croma, e schiava di Roma il Dio d'Ateo. Letture, canti, fatti e ricordi per onorare la memoria delle vittime e delle foibe e anche di tutti coloro che furono costretti all'esodo dalle loro terre, da Istra, Fiume e Dalmazia sul finire della Seconda Guerra Mondiale e nell'immediato dopoguerra. Alla vigilia della ricorrenza, che si celebra il 10 febbraio, stamani nel Salone Azzurro della Prefettura di Salerno si è aperta sulle note dell'inno di Mameli, intonato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Siano, la cerimonia aperta per ricordare le vittime delle foibe e il dramma dei tanti italiani. Alla manifestazione hanno preso parte autorità, istituzioni civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma. Nella circostanza, il prefetto di Salerno, il dottor Salvatore Malfi, affiancato dal comandante provinciale della Guardia di Finanza e dal sindaco di Postiglione, ha consegnato ai congiunti del finanziere Nicola Pacella due medaglie commemorative con rispettivi diplomi conferite dal Presidente della Repubblica in riconoscimento del sacrificio offerto alla patria. Sì, una giornata particolare, ma sempre vissuta con positività e gioia perché riusciamo a stare assieme ai ragazzi per trasmettere quei valori fondamentali della nostra Repubblica. Una Repubblica che non dimentica, ma che ricorda per andare avanti. Alla democrazia è fondata su valori. Uno dei valori è quello della memoria e della memoria viva. E la memoria viva è tale solo se è vissuta assieme ai ragazzi e alle persone. Oggi consegneremo anche delle medaglie alla memoria di una delle vittime delle foibe perché è importante guardare quando le cose sono previste per legge, non è un atto formale. E' che il nostro Parlamento, votato dal popolo, quindi il popolo italiano, ha voluto riconoscere dignità a un momento tragico della nostra storia, come in altre situazioni, e che quindi il popolo italiano, che in questo momento riconosce dignità e valore alle vittime di quei momenti tragici che hanno fatto parte della nostra storia e che mai più abbiano a ripetersi. Potere un appuntamento come quello della giornata del ricordo qui in Prefettura non è solo un atto formale, non è solo un momento istituzionale, è anche un modo per poter condividere con le giovani generazioni questi momenti. Voi sapete che l'altra giornata della memoria, quella della scioala, l'abbiamo fatta nella sede della consulta. Noi la rifacciamo qua perché vi è un osmose. Questo è uno dei luoghi del popolo, della gente, della città, è uno dei luoghi degli studenti. Io amo stare tra gli studenti, come sapete, ma non è solo una vocazione personale. È l'unico modo, secondo me, per dare senso vero a queste cerimonie. Pagine di storia molto tristi, eventi che hanno la necessità di essere trasmessi alle nuove generazioni. A sottolineare l'importanza della giornata del ricordo, è stata anche la consigliera comunale di Salerno Pachi Memoli, delegata a rappresentare il sindaco Vincenzo Napoli alla cerimonia, in veste non solo istituzionale ma anche personale. Oggi ho avuto l'onore di rappresentare il sindaco in questa celebrazione, che poi non è una celebrazione in memoria. Ricordo, ma è soprattutto uno studio di quello che è accaduto nel passato. E questo passato è stato raccontato da mio zio Antonio Iacuzzo, che è stato un deportato nei campi di Dachau. Lui ha scritto un libro ed ha girato per le scuole con i ragazzi per raccontare l'orrore che aveva vissuto a Dachau. Quindi per me oggi è veramente una grande emozione partecipare a questo evento, perché ricordo tutti i racconti che mio zio mi ha fatto. Mio zio l'abbiamo perso ad agosto, aveva 95 anni, e tutti in città lo ricordavano, ma soprattutto ricordavano Antonio Iacuzzo, perché ha avuto il coraggio di girare per le scuole, di raccontare ragazzi e fare in modo che questi crimini praticamente non avvengano più nel mondo. Grazie a tutti.